Spendere un milione e quattrocentomila euro per chiedere ai cittadini di dire la loro su una questione sulla quale si sono già espressi quattro volte non avrebbe alcun senso. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, commenta così la decisione del Consiglio Comunale, che ha votato il parere negativo alla proposta di legge della Lega in Consiglio regionale. Se vent'anni fa poteva avere un senso parlare di separazione, aggiunge il primo cittadino, adesso è completamente anacronistico. Nel mondo della globalizzazione vincono le realtà grandi e unite, non quelle piccole divise. Rispettiamo le opinioni di tutti, alza le spalle di rimando il governatore veneto Luca Zaia, ma per noi lasciare esprimere i cittadini non è mai sbagliato. Indiremo lo stesso il referendum sulla base della proposta di legge di iniziativa popolare, inoltrata dai cittadini con oltre 9.000 firme. Questo è un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale, fa parte anche degli impegni chiari, pubblici, che ci siamo presi. Rispettiamo l'idea di tutti, anche del sindaco Brugnaro, che giustamente non la vede come la nostra maggioranza in Consiglio regionale. Dopodiché, se considera che ci sono estremi per impugnare, è legittimo che il comune possa anche impugnare. È altrettanto vero che la regione difenderà il suo provvedimento, senza far prove muscolari, ma semplicemente perché le difese dei provvedimenti vanno fatte fino in fuori. Il Consiglio Comunale Veneziano ha già dato mandato al sindaco e alla giunta di far valere le ragioni contrarie al voto davanti agli organi competenti. Dal punto di vista giuridico, la questione ruota intorno a due differenti interpretazioni della norma. Secondo il comune, la legge del Rio renderebbe illegittima la separazione, secondo la regione no. Dopo l'indizione del referendum da parte del Consiglio regionale, la battaglia si sposterà quindi dalle aule elettive a quelle giudiziarie.